Ti sei già messo il pigiama? Hai preso il cuscino! Sabato 13 agosto c'è Figli delle Stelle in Pigama! Il Pigama Party dell'estate a Italia in Miniatura! Viaggi nello spazio, animazione con il Bimbo Bell Show e battaglie di cuscini sotto le stelle cadenti! Dalle 19, bimbi in pigiama gratis! Adulti in pigiama, sono 10 euro! Info 0541 736 736 italiainminiatura.com